bella a tutti ragazzi e ragazze bentornati su questo nuovo video io sono alex alex alza e siamo sul canale di gamers for fun allora finalmente scaricato speedrunner anche io e non vedo l'ora di portarvi questo gioco ho fatto solo una partita di prova nella prova gratuita di speedrunner appunto e mi è piaciuto troppo allora stamattina sono andato a prenderlo adesso ci gioco per la prima volta del vero e proprio gioco completo io ci direi di fare partita locale per iniziare niente spero di fare qualcosa di buono ok così si salta ok si abbassa condizioni si abbassa e si vabbè ciao ok ok certo certo tanto non inizierete mai ok ho sbagliato tutto perfetto faccio proprio schifo no ma cos'è no infatti serio ok dai adesso sto andando un po più veloce sono l'unico che ho preso la cosa perché no ho sbagliato tutto ok dai madonna penso a prendersi ma grande l'unico che prende così dai allora cos'è dai su ok ah ci sono scritti sotto i comandi ok tipo un tutorial della partita locale dopo ne facciamo anche un online perché noi possiamo dai ok bisogna fare il ritmo ok no guarda dai che ci siamo ok dopo che è cresciato speedrunner sono entrato e sto cercando una partita rapida e come personaggio ho scelto questo molto più molto maschile volevo dire molto maschile perché vedete è un po macciore quindi gravissimo e abbiamo trovato la partita finalmente comunque in questo video oltre a parlare della prima partita delle impressioni a caldo di questo gioco devo parlare che tra avrebbe ci sarà caricato sul canale appunto il video blog diciamo della programmazione dei video che ci saranno durante la settimana e quest'oggi mi erano dimenticato di scherzare x ok loro sono già partiti cosa devo dire cosa stavo dicendo cosa stavo dicendo cosa stavo dicendo sì quindi durante la settimana nei giorni infrasettimanali dal lunedì al venerdì io farò uscire cioè io alex farò uscire uno o due video di videogiochi quindi potrebbe essere minecraft sicuro di minecraft ci sarà sempre connessione persa ottimo quindi se riusciamo a cercare una partita magari ce la facciamo forse è giusto così è comunque sì durante i giorni dal lunedì al venerdì io farò uscire un video sicuro cosa è sta roba no cosa è sta roba mi farò uscire sicuro un video di minecraft e ci potrà essere anche un altro in più esco no giusto così facciamo partita classificata dai prendiamo sempre questo io prendo la gatta dai prendo la gatta qui finalmente vediamo che abbiamo trovato la partita mi stava dicendo nei giorni dal lunedì al venerdì ci sarà io caricherò di sicuro un video di minecraft e ce ne potrà essere un altro di qualche altro gioco che potrebbe essere counter strike speed runner altri non so oggi modo ho comprato oggi e tanti altri giochi che ci saranno in futuro poi la domenica ci sarà il video che sarà una challenge o un blog o vedi un video che ci vorrà molto per editarlo che ci vorrà molto tempo per editarlo e quindi pensavo di far uscire la domenica così il sabato avevamo tempo per editarlo io sono una gatta ok ovvio 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 sono già morto in pratica incredibile sì sono morto ok perfetto grande e dopo questa domenica che ci sarà una challenge o un blog o un video che ci vorrà molto per editarli il sabato certe settimane scusate ci sarà un video o un blog o un video dove saranno in tanti amici a registrarlo tipo una challenge speciale o un blog in compagnia o tante cose così io penso di farlo così quindi se io carico due video dal lunedì al venerdì poi Franz mi ha detto che all'incirca le caricherà anche lui uno o due video di videogiochi dal lunedì al venerdì quindi ci saranno già quattro video dal lunedì al venerdì poi sono morto la domenica se io faccio uscire un video ok sì lo facciamo uscire insieme quindi sono già cinque video e poi ci potrà essere un sesto in qualche settimana quindi sono molti video ci vorrà molto impegno per rispettare questa scaletta comunque credo che credo che uscirà sempre questo video blog con la programmazione tutta precisa e quindi vi raccomando stay tuned che uscirà ok sto qua ha vinto già tre partite che bello sono contento per loro no ho salvato il replay non volevo ok centrato ok questo devo fare scusate ah qua scegliamo la mappa io scelgo questo ok casuale workshop infatti tutti gli altri hanno fatto casuale quel normale ok dai cerchiamo di vincerla ok 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 oh sono fortissimo dai 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 corri corri non corre il mio ok grande ha frenato per aspettarmi sicuro vai no 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 li sto recuperando non importa sì spero di rispettare questa scaletta che vi ho appena detto perché sarebbe un ottimo inizio per il canale visto che siamo anche due riusciamo a te agevolarci anche di più ho fatto una cavolata cazzo ho fatto una cagata dai sono già morto che palle devo allenarmi un po di più eh vabbè allenarmi un po di più è la prima partita che faccio quindi me la potete dare buona eh sì già che ci siete qua sotto scrivetemi i giochi che volete che faccio uscire oltre a minecraft dei giorni da lunedì al venerdì così oltre a fare giochi che ci piacciono a noi ovviamente devo fare giochi che piacciono anche sbagliato noi sono andato a sinistra e vi dico subito che a disposizione ho garis mod di mod speedrunner appunto poi questa gioco counter strike block storm e altro questo qua vince sempre madonna e quindi ditevi voi i giochi tra questi che vi ho citato o altri giochi che volete vedere e noi cercheremo di realizzare dei video su quel gioco io vado qua ok dai vai 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 ho vinto io non è vero vogliamo di vincere faccio l'ultima partita poi vi lascio incredibile sono i morti chi sono io ma dai perché mi hanno lasciato indietro no dai fai serio sono morto che cosa vabbè avete visto anche voi come faccio mi faccio essere morto no vabbè stasera ho capito che mi tocca andare ad andare a speedrunner non è vero perché domani c'è scuola ok guarda il tesco è stra forte non laga laga poco mio dio non dare in giù perché stai scherzando sta perché mi butta indietro bello bravo complimenti Alex noiii no io penso che bisogna andare a destra non ci credo non ci credo infatti sono stato anche zettissimo ero concentratissimo e vabbè sto comincio sempre bisogna andare a destra adesso ero spero oh 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 dai perché oh mio dio come l'ho presa bene dai fai serio ok dai 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 che la vinciamo oh oh no dai 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 sto imparando un po' come muoversi lanci e strafilo i movimenti sono stranissimi però è il gioco che è fatto così almeno ok si stavo dicendo almeno non finisce già la partita perché il teschio è oh mio dio cos'è successo no il teschio era già morto ho deciso io adesso che ci penso eh 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 vai oh mio dio ci sta oh mio dio avete sentito no dai mi sono gagato addosso dal temporale ok adesso esco dalla lobby perchè mi hanno rotto il ok ragazzi quindi per questo episodio è tutto spero che il video vi sia spiaciuto non credo perchè non ho detto un cazzo cioè si ho parlato però a casa cioè non so neanche se avete detto qualcosa di sensato il gioco mi sta piacendo scusate molto bello adesso vi do un po' a allenare perchè come avete visto faccio proprio schifo e niente spero che il video vi sia piaciuto lasciate un mi piace, un commento con consigli giochi che volete vedere sul canale serie che volete vedere sul canale tutto quello che volete qua sotto quindi vedete il video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto bella iscrivetevi al canale grazie a tutti